Una folla di giovani e meno giovani, completamente dipinta da polveri coloratissime, ha invaso venerdì pomeriggio la passeggiata di Lido di Camaiore con la Color Run, giunta quest'anno la seconda edizione, un'esperienza che coniuga divertimento, esercizio fisico e aggregazione. Venerdì pomeriggio il Consorzio Commercianti, Albergatori e Balneari del Lido, con il patrocinio del Comune di Camaiore, hanno dato vita a questo evento organizzato da Maratonando e la palestra Synergym, che ha riscosso l'adesione di oltre 400 iscritti. Dopo la partenza, gli atleti hanno svolto una gara non competitiva, della lunghezza di 5 o 8 chilometri, che prevedeva l'andata sulla passeggiata del Lido e il caratteristico ritorno sulla spiaggia. Sì, è l'ennesima manifestazione, oggi all'insegna dell'allegria, della musica e dello sport, è una corsa colorata che è il terzo anno che facciamo al Lido di Camaiore e tutti gli anni ci dà ottime soddisfazioni. Si parte, è una corsa all'insegna dell'allegria, ci verrà gettato il colore addosso in più punti, faremo tutta la passeggiata di Lido di Camaiore e poi faremo circa 3 chilometri di spiaggia per ritornare qui alla partenza.